Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di analisi tattica. Quest'oggi analizzeremo nella partita giocata tra Olanda e Italia di Nations League tre temi tattici. Occupazione di spazi, smarcamento e bisogno di gioco. Attaccare uno spazio libero significa comprare un movimento con o senza palla per andarla ad occupare. Gli spazi sul terreno di gioco per essere attaccati devono essere liberi dai compagni e dagli avversari. Lo smarcamento non è altro che un movimento attuato dal giocatore per eludere la marcatura del diretto avversario, al fine di ricevere il pallone o di creare uno spazio per far ricevere un compagno. Qui possiamo vedere una differente angolazione. La capacità di un giocatore di interpretare la disposizione tattica di compagni e avversari durante le varie fasi della gara si chiama visione di gioco. Qui vediamo una marcatura lenta. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi. Ciao